Da Unieuro marzo ti sorprende! Su tanti grandi elettrodomestici, anche da incasso, la consegna è gratuita e puoi pagare a tasso zero, perché Unieuro batte forte sempre! Fino al 14 marzo, dettagli in negozio, TaneTag 0%, 10 rate, salvo approvazione della finanziaria. Ha vinto un ragazzo che potrei solo definire con una parola che a me piace tantissimo, un professionista. Un ragazzo che, se ci avete fatto caso, non aveva nessuno dietro il camerino, dietro le quinte, era lui da solo, con se stesso, concentrato, perché la vittoria si porta a casa. Non aveva una madre che piangeva, perché non aveva una rivincita soltanto, aveva un contratto da portare a casa, un cachet, aveva un sogno che riguardava lui e lui soltanto. E queste cose si vedono, perché, senso, è chiaro che hai una famiglia, degli amici che credono in te, tutto quello che ti pare, ma quelli sono a casa, ti supportano da casa, ti sono vicini. A quelli mandi il messaggio, non li devi avere dietro, come se fossimo a Canale 5. Niente contro a chi ce l'ha. Bellissimo il momento di El Matador con la sua famiglia, tutto quello che vi pare, anche l'altra ragazza che non riesco a nominare il nome, ogni volta sbaglio, quindi evito. E quindi di conseguenza un'altra attitudine, ma soprattutto ha vinto per meriti una scrittura di livello, già dal primo inedito, bellissimo il cambio tra la parte reppata e il cantato, ed è l'unico che scrive bene, di un grande talent, l'unico che ha scritto veramente bene. E quindi è quello che meritava di più. Poi, magari il Matador è quello che più ti può fare la hit, perché no? Però, ecco, questo ragazzo c'aveva qualcosa che teneva dentro, non gli serviva ostentarla, non voleva ostentarla, lui ha pensato solo a far musica, è andato dritto per la sua strada, e ha sempre creduto in una cosa, nel suo stile, in quello che è il suo percorso, la sua lirica, anche sperimentando, non è che è andato lì cercando di portare un qualcosa di diverso da quello che è. E quella persona che sta parlando è una persona che sperimenta tanto tra i generi, e quindi, cioè, io gli faccio tanti complimenti perché probabilmente al suo posto avrei snaturato me stesso, perché ingolosito dall'opportunità, dalla visibilità, non so se sarei stato capace di portare quel rap lì, che tra parentesi ti fa vincere magari il talent, ma non so se poi ti paga nel mercato. Cioè, è quel genere di rap che ti aiuta a creare una nicchia, perché badate bene ragazzi, questi format ti danno anche un pubblico social, c'è gente che ti commenta le foto, gente che gira attorno ai tuoi Instagram, eccetera, eccetera. Però poi la conversione nello stream è quella che è veramente particolare, è veramente difficile, e una fanbase deve essere molto grande, perché se tu riesci a convertire il tuo social a 20.000 stream, per esempio, mazza vuol dire che tu sei uno che ha un potere enorme, vuol dire che tu ci hai fatto, cioè dici ragazzi cliccate qui e ci cliccano 50.000 persone, nessuno di questi ragazzi è in grado di fare questo a titolo informativo, ma, ma, nel senso con un buon budget, possono lanciare adesso dei prodotti, cosa che non potevano fare prima, perché gli indipendenti fanno, diciamo, fatica. E lui è uno di quegli artisti, un po' come Mekna, per esempio, che magari non ha mai sfondato mainstream, ma riempie i locali in tutta Italia, fa le sue 300 persone ovunque, perlomeno qualche anno fa, quando ancora lo seguivo. Poi, d'altra volta, mi sa che ha fatto anche buoni numeri Mekna, quindi faccio riferimento al primo Mekna. Per quanto riguarda gli altri, c'era quella puzza di latte proprio, soprattutto nella ragazza, non si è capito nulla della sua traccia, era così presa dall'avere il suo momento che non ha saputo giocarselo, ma, in verità, le sue prime esperienze, quindi è andata anche troppo bene così, ha fatto molto di più, aveva quella fame di dover raccontare, che, insomma, va bene così. Il discorso è, mi domando, che ci faceva una dilettante in finale? Perché forte, forte, brava e brava, il sound ce l'ha, la canzone è bella, sia chiaro. Però, nel senso, qui parliamo comunque di una ragazza alle prime armi e si vede, non poteva vincere mai, e l'ho vista anche che ci ha creduto quasi, diciamolo. Quanti sul divano hanno detto, mo' la fanno vincere, perché quante volte Rosvillian ha fatto, eh, non c'è spazio per le donne, le cose. Chiudiamo questo discorso, perché non c'è tanto spazio per le donne, non è vero, semplicemente devi streammare, non c'è spazio per nessuno, ok? Non c'è spazio per nessuno. Il rap, purtroppo, devi rappare. Rappare è una cosa che riesce più facile agli uomini. Anche il podcasting. Le donne sono meno, però ce ne sono alcune che stanno al top. Perché? Perché una voce maschile è più facile da ascoltare durante un accompagnamento. La voce femminile, in quanto più acuta, più stridula, per una questione proprio pratica, e devi saperla usare, quindi è difficile. Poi con la voce femminile puoi fare tante altre cose. E questo non è un discorso di razzismo, semplicemente è un fatto. Quindi non è che c'è poco spazio per le donne, è che ci sono poche donne che spaccano. Ma se una donna spacca, poi lo spazio glielo danno. Non c'è problema. Cioè, se una donna fa la hit, poi va avanti. E quindi noi abbiamo pensato, vincere a lei, faranno vincere lei, no? Chiaro. E invece no, perché è una principiante in confronto a Kid the Lost. E il matador, fortissimo, però sapete che è? Che sì, quando uno fa il Conscious e non l'ha mai fatto, lì per lì ti colpisce. Anche Fibra ha detto, wow, in quel frangente ha detto più degli altri, non è vero. Kid the Lost ha scritto un testo bellissimo e di qualità. Veramente, andiamo a fare l'analisi del testo, andiamo a vedere. E lì si vede l'esperienza di chi si sa raccontare e di chi non lo sa fare. E il matador, al suo primo tentativo, non poteva combattere con un veterano del raccontarsi. E quindi ha vinto l'introspezione, ha vinto l'insicurezza di un ragazzo che però sul palco fa cadere tutto e diventa in qualche modo un supereroe. Perché Kid the Lost a guardarlo è veramente un perfetto nessuno, è uno sconfitto. Guardandolo non vedi un campione. Ed è questa la sua forza. Perché magari non gli dai una lira, ma poi ti scrive dei testi che valgono più della metà dei big che sono in classifica. E te li rappa bene e ha la capacità di spaziare tra il rappato e il cantato. Chapeau. Voglio fare i miei complimenti a questo ragazzo e voglio augurargli una grande carriera. Perché se la merita. è perché c'è bisogno di gente come lui. Nel mercato del rap.